... Appassionati d'opera, in visione e in ascolto, ben ritrovati. E ben ritrovati con Ruggero. Ruggero è il personaggio, in realtà con Arturo Ciacon Cruz. L'ho detto bene? Abbiamo fatto le prove a microfoni spenti. Allora, la prima volta qui a Carlo Felice. E' la prima volta qui per me, sono molto contento di essere in questa città, in questo teatro soprattutto, con un'opera che non è fatta molto spesso. No, direi proprio. Pensa a Genova, l'ultima volta è stata fatta nel 1917, quindi 101 anni fa, quando è stata praticamente scritta. E' un onore, allora essere qui per me è una gioia. Conoscevi già l'opera? Conoscevi già la rondina? L'avevi già cantata? Sì, questa è infatti la quinta produzione che ne faccio. Un ruolo che l'ho scoperto molto giovane nella mia vita. E tu sei molto giovane. Ma comunque questi dieci anni di differenza tra quando l'ho debuttato e adesso hanno portato una maturità molto nota per me, come cantante e come attore. Certo. Ecco, come attore hai detto bene, perché la rondina è un'opera dove si recita molto, no? C'è molti dialoghi, quasi sempre ci sono pochissime aree chiuse, quasi sempre ho a contatto con qualcun altro, addirittura con molti altri. Come ti sei trovato con Giorgio Gallione, che è un regista che viene dalla prosa, no? Quindi conta molto recitare. Molto, molto. Giorgio è un genio. Poi io non glielo diciamo, se non si monta la testa. Non glielo diciamo, forse se la crede. No, niente. Ciao, Giorgio. Capo. Guardi, guarda perché parliamo dal tuo. Io sono un po' meno giovane, ma da più vecchio autorizzo a dare tutti del tuo ormai. Giusto Zeffirelli, non va da tutti gli altri. Io penso che Puccini ha visto il futuro della lirica, con questa forma di scrivere, mettere la regia e il canto insieme, è molto importante. Perché un pubblico che adesso guarda i film di Hollywood, va all'opera, è un pubblico nuovo, sto parlando. A volte può darsi che se non si fa qualcosa di generoso con le emozioni, con la regia, si perde questo pubblico. Sì, oppure con il rischio di vederla, ma come se fosse una cosa vecchia. Esatto. Invece questa è una cosa coinvolgente. In fondo è molto moderna, Rondine, come temi. Come tema. C'è l'amore, c'è l'amore che finisce senza bisogno di una malattia o di qualcuno che muore. Finisce come finisce nei giorni normali. Come ci sono finiti i soldi. Finisce perché c'è sfortuna. Perché siamo umani. In una parola, giustamente, finisce perché siamo... È vero, perché sono le cose che succedono nella vita di tutti i giorni. E non per questo sono meno tragiche. Perché il finale veramente, dicono spesso, è un'operetta. Ma non è un'operetta per niente. Non c'è niente a che invidiare alla traviata che la sua opera specchio. Perché sì, non c'è la morte, ma è un finale veramente molto malinconico. Molto malinconico e molto, come abbiamo detto, pieno di umanità. Cioè, poi Puccini non toglie mai il mirino dal cuore dello spettatore, no? Qui c'è l'aria di Parigi in questa versione, per cui finalmente il tenore c'ha pure un'aria chiusa che può cantarsela per conto suo, perché sennò è quasi sempre... Beh, poi c'è il concertato del secondo atto, che fra l'altro anche in questo caso non c'è mai stato un brindisi più triste, secondo me, perché non è libiamo, non è viva il vino spuneggiante. È un brindisi che ti fa anche pensare a cosa sta succedendo. Sì, perché sta succedendo, giustamente, ci sono le due coppie. E poi il testo di Magda, che si vuole convincere di essere innamorata, si vuole convincere di trovare qualcosa di vero nella vita. Sta rivivendo quella che è stata, ma nemmeno una passione d'amore, è stato, le hanno offerto due ore, due birre. Sì, esatto. Poi è stata proprio una cosa fuggevole. Quante notazioni... e poi c'è la musica di Puccini. Sì, Puccini ci regala il suo cuore. Ma è proprio, veramente... Io penso che lui era, in questi momenti, quando ha scritto quest'opera, in un momento tra Rambaldo e Ruggero. Sì. Voglio dire, un uomo maturo che si sentiva anche con la voglia di amare, innocentemente con l'illusione di amare così come un giovedotto. Peccato, pensa che lui è morto poi nel 24 e il film sonore è arrivato nel 30. L'ha mancato per pochissimo tempo. Sarebbe stato un grande autore, secondo me, per il cinema anche, perché si presta, lui accompagna queste cose. Il terzo atto, il tenore, esce di scena lievemente prima abbandonato, che non è un ruolo per tenori, no? Questo, generalmente il tenore è quello che lascia. Io lo lascia, oppure... Voglio ora... Sì, sì, caspita. Beh, lì è proprio uno dei più cattivi, se vogliamo come... Se lascia è un gran personaggio, o prende morta la... Oppure, certo, o in qualche caso a coltella, voglio dire, come Carmen. Cioè, ci sono delle... Invece qui c'è questo finale un po' sotto le rive, no? Sì, sì. E questo che voglio dire, che è molto umano, che adesso, ai miei 40 anni, sono molto diverso, infatti, non dieci. Sempre giovane, sempre giovane. 12 anni fa, che l'ho fatto per la prima volta, che a 28 anni non sapevo esattamente cosa voleva dire essere lasciato. Sì, ero triste, sì, cantavo con tutto il cuore, ma adesso vi posso esprimere... Certo, perché c'è più esperienza, giustamente. Uno conosce, vede le cose un pochino da un'altra prospettiva, anche, ripeto, sono solo 40 anni, però... Puccini, che era già un po' più vecchio di una decina d'anni qua. Le prove stanno andando bene, il cast è molto omogeneo, vero? Molto omogeneo, sono molto contento di avere questo cast con Elena Rossi, che ci siamo diventati amici subito, c'è un rapporto, una chimica bella. Una persona deliziosa, peraltro, che neanche faccio, non voglio dire diventare. Sì, sì, sì. Poi Stefano Antonucci, che siamo amici da tanti, tanti anni. Lui è un rambaldo specialista, quasi. Il mio primo rambaldo in Italia. Lui è un rambaldo di riferimento. Sì, sì, che abbiamo fatto la rondine a Venezia, tanti anni fa, insieme. Sì, sì. E poi Simone Boccanegra, tante cose. Certo, certo. Insieme, sì, sì. Era quella con la cedolins, la rondine. Sì, sì. Molto bella, era una bella edizione. Sì, ricordo. Senti, grazie mille, intanto, di aver trovato la pazienza per essere venuta qui da noi, ma non ti lasceremo andare via senza avere la firma sulla locandina. Ti rego questo. Ecco. Oh, perfetto. Allora, in bocca al lupo, come si suol dire, ci vediamo alla prima. Ci vediamo alla prima. Grazie. Grazie.